Il fenomeno Foursquare e geolocalizzazione si sta diffondendo sempre di più grazie proprio alla diffusione dei dispositivi mobile quindi è importantissimo per hotel, ristoranti e bar sapere chi fa check-in, quando, perché e premiare ovviamente i mayor che sono le persone che maggiormente fanno check-in all'interno delle proprie location. Quindi l'ideale per un'attività è aprire uno special, innanzitutto reclamare l'avvenio e poi dopo aprire uno special e premiare proprio la fedeltà delle persone. Per la tua esperienza sono ancora poche o molte le strutture che utilizzano questa possibilità? Sono pochissime anche perché lo strumento ha un bacino di utenti di 10 milioni nel mondo quindi non sappiamo quali sono il vero numero degli utenti in Italia però è giusto anche premiare una nicchia come gli utenti di Foursquare perché veramente spesso, come ho detto prima, durante l'intervento ci chiediamo chi sono le persone che vengono da noi, perché vengono da noi, come premiarle una volta che abbiamo la possibilità di individuarli, facciamolo.